La Spagna ha messo più di 70.000 persone in lockdown nella regione nord-occidentale della Galizia a seguito di un nuovo focolaio di Covid-19. La comunità autonoma ha decretato il confinamento degli abitanti di La Marina, dove si è registrato un focolaio con oltre 100 casi. La mossa giunge 24 ore dopo la chiusura da parte della Catalogna, anche lì per un nuovo focolaio, al fine di frenare la diffusione del virus. A livello nazionale l'epidemia in Spagna non fa registrare ulteriori allarmi. L'Italia intanto sta mettendo in atto nuove misure per impedire alle persone infette di proliferare. Desta a scalpore il caso in Veneto, in cui un imprenditore vicentino, segnalato alla Procura della Repubblica di rientro dalla Serbia e l'uso le restrizioni, generando un nuovo focolaio. La battaglia al virus in Italia non è ancora vinta, quindi è giusto tenere alto il livello d'attenzione e dovunque necessario assumere immediatamente misure che siano adeguate per stoppare l'eventuale diffusione del contagio. Il Kazakistano è diventato il primo paese al mondo ad imporre un secondo blocco nazionale, complice lo spropositato aumento dei casi rispetto al recente passato, il che ha travolto il sistema sanitario del ricco Stato petrolifero. Centri commerciali, palestre e piscine sono stati chiusi per le prossime due settimane. Sfortunatamente mi sembra che il blocco non aiuterà, dice questa residente. Anche ora le persone camminano nel parco senza maschere, si assembrano. Anche l'India ha fatto registrare un nuovo record di persone colpite da Covid-19, con oltre 690.000 casi conclamati, il paese è ora il terzo più colpito al mondo dietro Stati Uniti e Brasile. Abbiamo paura ma dobbiamo uscire, afferma questo signore. Tutti nel mondo temono per la propria vita, ma è anche necessario lavorare. Crescono i tassi di infezione e l'impossibilità di aumentare i test effettuati lascia presumere che le persone colpite siano in numero ben superiore a quello ufficializzato.